Allora, parliamo dell'udito come organo importantissimo per la relazione dell'uomo con l'altro, e quindi la sua implicazione, la sua importanza nel sociale, nella relazione. Sicuramente l'udito è un organo sensoriale e di percezione fondamentale. Mi viene in mente un'affermazione di Helen Keller, che era una famosa poetessa, che purtroppo da piccola è rimasta sia cieca che sia sorda. Lei affermava che la cecità la separava dalle cose, mentre la sordità la separava dalle persone. Questo rende l'idea di come sia importante del rapporto interpersonale che un organo sensoriale di percezione, come l'ho dito, sia efficiente. Grazie a tutti.